Siamo con Andrea Cugnola al 35esimo Rally 1000 Miglia di Brescia. Andrea, raccontaci le tue prime impressioni su DS3 R3 e la gara. Sicuramente le prime impressioni sono ottime. La macchina ha dimostrato un grandissimo potenziale e ha un grandissimo assetto che permette sullo sconnesso di fare delle ottime cose. Il motore spinge molto bene e quindi le impressioni sono assolutamente ottime. Per quanto riguarda la gara, fino a stamattina bene. Eravamo i primi durati motrici, non assoluti. Purtroppo ho commesso un piccolo errore e abbiamo perso un po' di tempo. Però è tutta un'esperienza. Certo. Tenendo anche in considerazione che dietro di te c'è tutto uno staff di Citroen Racing con grandissima esperienza a livello internazionale, questo immagino che per te sarà una grossa motivazione. Avrai tanto da imparare e migliorare per crescere, insomma. Sì, non si smette mai di imparare. Lavorando con gli ingegneri di Citroen Racing direttamente si possono imparare tantissime cose sotto il profilo professionale. Quindi sono molto contento di far parte di questo progetto. Ok, le prossime gare hai aspettative? Cosa pensi? Diciamo che sto cercando di fare esperienza piano piano. Anche perché ho sempre guidato macchine aspirate e questa è la prima macchina col turbo che sto utilizzando. Quindi sto cercando di andare passo per passo e cercare di migliorare prova dopo prova. Le aspettative sono buone, visto che abbiamo visto che la macchina ha un potenziale enorme. Quindi dalle prossime gare speriamo di essere comunque sempre competitivi. Ok, grazie mille Andrea. Grazie a voi.